mia nonna diceva sempre per star ben te devi maniare poco tua nonna aveva ragione perché la restrizione calorica con tutti con tutte le vitamine e sali minerali è l'intervento più potente che esiste in natura per allungare la durata della vita ma non solo la durata della vita ma anche la durata della vita in salute questi animali che stiamo studiando vivono del 30 40 per cento in più è come se un uomo invece di vivere 80 anni nei versi 120 e un terzo di questi animali muore vecchissimo senza nessuna patologia e l'altri due terzi sviluppano le patologie tipiche tumori malattie cardiovascolari via dicendo molto più tardi quindi c'è un posticipamento dello sviluppo di queste di queste di queste patologie qual è l'effetto della restrizione calorica sull'invecchiamento cellulare io lavoro sull'uomo ok io lavoro su un gruppo di persone negli stati uniti che fanno diversi studi ma uno degli studi per cui sono famoso tutto il mondo proprio questo studio di questo questo gruppo di persone che fa restrizione calorica da circa 15 anni quindi mangia in circa 1800 calorie al giorno però con tutti i nutrienti con tutte le vitamine e sali minerali e quello che stiamo studiando è se le stesse modificazioni metaboliche molecolari e cellulari che vediamo in questi animalini di esperimento che sappiamo vivere più a lungo perché lo possiamo misurare avvengono anche nell'uomo e la risposta è sì l'uomo si adatta alla restrizione calorica come l'animale stiamo cercando di capire i meccanismi biologici molecolari perché mentre i topolini sono geneticamente identici quelli che studiamo l'uomo invece una diversa predisposizione genetica perché siamo tutti diversi e stiamo cercando di capire cosa fa cosa in maniera che poi possiamo individualizzare personalizzare l'intervento perché so che quello che stiamo scoprendo che non soltanto la quantità delle calorie ma la composizione della dieta è importante è importante anche la distribuzione dei pasti durante la settimana quindi ad esempio incorporare dei giorni di digiuno un giorno di digiuno una settimana oppure quello di distribuire i pasti durante la giornata in una maniera corretta quindi fare tanti piccoli pasti non fa bene sarebbe meglio invece concentrare tutte le calorie che mangiamo in una finestra ristretta un altro detto dei nostri nonni colazione da re pranzo da principe e cena da povero e quello che stiamo scoprendo che c'è un razionale scientifico perché i nostri geni i nostri metà i nostri ormoni si si muovono seguendo dei ritmi circadiani e quindi dovremmo rispettare questi ritmi circadiani e lo possiamo fare seguendo questa questo questo principio che per esempio il principio il sesto degli otto precetti buddhisti obbliga i monaci a consumare tutto il cibo tra il sorgere del sole e il picco mezzogiorno alle una dopodiché il monaco deve digiunare quindi sono delle esperienze empiriche non soltanto nostre ma anche di altre di altre tradizioni culturali che al giorno d'oggi con la ricerca scientifica stanno riconfermando noi abbiamo miliardi di organismi di batteri che vivono nel nostro intestino e quello che stiamo scoprendo è che quello che mangiamo modifica il tipo di batteri che vivono il nostro intestino e modifica sia la composizione che la che la capacità di metabolizzare il cibo e vengono prodotti dei metaboliti da questi batteri da questi nostri ospiti che si trovano nell'organismo metabolizzano il cibo e producono dei metaboliti che hanno un effetto sul nostro rischio di diventare obesi di sviluppare malattie cardiovascolari stiamo scoprendo che questo aumento importante di malattie allergiche autoimmunitarie è legato al fatto che consumiamo per esempio molto meno fibre alimentari cereali e legumi e legumi che vengono metabolizzate queste fibre vegetali dai batteri per produrre metaboliti che si chiamano acidi grassi a catena corta come il propionato l'acetato che sono fondamentali per plasmare il nostro sistema immunitario contro le malattie autoimmunitarie contro le malattie allergiche come l'asma cioè stiamo usando le nostre conoscenze di biologia dell'invecchiamento di come l'organismo accumula o si previene l'accumulo di danno molecolare attraverso studi di biologia di base per ridisegnare la dieta e l'attività fisica ed altre cose il nostro rapporto col cibo ha un aspetto culturale imitativo cioè faccio un esempio se io vivo in america piace mangiare hamburger patatine fritte coca cola se vivo in india mi piace mangiare cibo piccantissimo se vivo in trentino magari cibo piccante non mi piace quindi quello che le persone fanno spesso è un fattore di imitazione e quindi le amministrazioni dovrebbero creare le condizioni per permettere alle persone di fare alcune attività permettere alle persone che vanno fin da piccoli in mensa o alla mensa del lavoro di essere esposti a un certo tipo di cibo per cui diventa poi spontaneo che la gente consumano un certo tipo di cibo l'altro è il fatto che le persone devono essere educate non c'è educazione quindi anche lì dovrebbero sorgere delle strutture persone che insegnano le persone ad acquisire alcune strategie che poi diventano parte integrante del proprio modus vivendi e siccome non sei l'unico ma c'è tante altre persone che si comportano come te poi diventa una moda comportarsi in una certa maniera anche al lavoro bisognerebbe trovare dei tempi per cui le persone possano fare dell'attività fisica l'altra cosa però che ci terrei a dire che è è vero che lavoriamo 8 ore ma una certa parte di 24 ore se tu poi guardi cosa fa molta gente nelle altre ore magari stare davanti alla televisione o davanti a un iphone a chattare in facebook o magari si guarda la partita di calcio ma non fa lui sport guarda gli altri fare sport quindi ci vuole un approccio un pochettino più olistico più pensato in cui c'è un coordinamento tra attività politiche istituzionali e motivazionale dei vari cittadini e informativo iscriviti al canale